Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video come al solito qui con GR Soreel, grazie mille di essere qua. Aggiornamenti, andiamo avanti con un pensiero personale finale su questi cavoli di bellissimi aggiornamenti che hanno fatto bene a tutti. Vediamo cosa ne pensiamo sia io che lui. Vuoi cominciare tu? Inizio io, va bene. Abbiamo trattato nei video precedenti riguardo la modifica effettuata alla cap e la modifica anche alle competizioni, la struttura delle competizioni. E le prime critiche che si possono rivolgere a Sorare innanzitutto riguardano il numero di questi aggiornamenti. I aggiornamenti che iniziano ad essere davvero tanti, forse troppi, anche in rapida successione. La cap nel giro di Balcan è stata praticamente demolita. Una cap che rendeva tantissimo è diventata una modalità che a agosto ci lascerà. E in questi mesi, fino appunto ad agosto, per i prossimi 3-4 mesi, diventa una modalità molto difficile da raggiungere la soglia. O comunque che sarà molto poco, è profittevole di quanto la soglia a base di 2 dollari. Con il target diventa una meccanica molto difficile e potrebbe anche innervosire il fatto che tu magari fai 3,90, onde selezioni 2,70 e vincere 2 dollari invece di 25 per la limited. E invece sarebbero molto di più, anche 2,50 per la rara. Quindi sicuramente è una cosa molto negativa. Ma poi non si può, cioè, parliamo di un sistema come Sorare, dove la gente investe anche a lungo termine, investe anche tanti capitali. Si tratta di un vero e proprio investimento e si può dire che loro lo stanno trattando come un vero e proprio gioco. Questo non è una cosa che si può fare, soprattutto nei confronti degli utenti, che hanno messo tantissimi soldi e si ritrovano a dover modificare di continuo il loro piano di investimento. Cioè, così si può definire in seguito tutte le modifiche che effettano al team di sviluppo. Su gente che si chiara squadre da cap per la prossima stagione, da un giorno all'altro li la tolgono. Gente che si fa squadra America per la prossima stagione, squadra Asia, da un giorno all'altro spariscono queste competizioni. Non è il modo giusto di affrontare il piattaforma. Dal mio modo di vedere, l'orizzonte, l'obiettivo che stanno perseguendo, è giusto per la sostitabilità della piattaforma. Ma questo è il modo più sbagliato che si poteva prendere per arrivare a quell'obiettivo. Non si possono fare dei chiamamenti così repentini, fregandosi anche della gente, delle idee che ha. E quindi per me si potrà fare molto, molto meglio. Mi piace l'idea, mi va bene anche un gioco senza competizioni, però bisogna dare un modo agli utenti di abituarsi e non prendere queste idee così, da un giorno all'altro, stravolgendo l'intero sistema. Tu cosa ne pensi? Giustamente, in gran parte come te. A me è una cosa che ha dato fastidio, magari ce l'hai tu e la puoi aprire, è stato il penultimo aggiornamento quando ci sono state immesse le fee. A me è una cosa che ha dato fastidio, come dicevo, vediamo anche qua sopra la pressione, è la commissione di vendita di Sorare che è stata immessa un anno fa circa, diciamo, del 5% che era proposta per sostenere il tutto, comprese le CAP. Adesso le CAP non sono più sostenibili. Mi sembra, sinceramente, dal mio punto di vista, una presa in giro per l'utenza. Non hanno chiesto scuse, non hanno detto, i ragazzi ci siamo sbagliati, abbiamo calcolato male, oppure ci sono stati degli inconvenienti. Non mi sembra giusto neanche questo. Come hanno scritto loro, nel penultimo o terz'ultimo aggiornamento, addirittura la commissione di vendita di Sorare Football è pari al 5% per la maggior parte delle transizioni nel manager sales market place, cioè il mercato nostro, degli utenti, secondario. Diciamo, soggetta ad eccezioni di campionati e club. Ciò rispecchia la commissione in vendita di Sorare MBA e Sorare MLB. Ad esempio, se vendi una carta applicabile sul market place per 100 dollari, riceverai 95. Tu, nel portafoglio, i 5 dollari andranno come commissione, logicamente, a Sorare. Similmente, dall'esperienza Sorare MBA e Sorare MLB, Sorare Football Manager saprà quando si applica la commissione del mercato del 5%, quando si mette in vendita o si vende la carta. Sarà dettagliato nell'anteprima della transazione. In vista della stagione europea del club 2023-2024, stiamo implementando questa quota come parte del nostro lavoro più ampio verso la costruzione di un'economia sostenibile. Cioè, voi ci mettete la commissione per sostenere l'economia e dopo un anno non è più sostenibile, anche se ci avete messo la commissione. E secondo me questo è ciò che mi ha fatto più male di tutto, perché io non mi dimentico di solito le cose, purtroppo. E questa cosa qua mi ha fatto male. Cioè, ci hai messo le commissioni, magari non era sostenibile fino allora, capisco, va bene, però dopo non puoi venirmi a dire nel nuovo aggiornamento che la CAP240 non è più sostenibile. Vuol dire che c'è un errore da qualche parte. Quindi, o ti prendi la responsabilità e chiedi pubblicamente scusa, nel senso, ehi, le commissioni non bastano, non è sostenibile, perché noi non sappiamo i calcoli di Soreir, logicamente, quanto guadagnano e quanto no, purtroppo. Ma cercherò di trovare, cercheremo di trovare anche questi dati qua. Sarebbe bello, vero G.R.? Assolutamente. Sarebbe veramente bello. Ci sto facendo un pensierino. Dovremmo guardare un po' su internet. Magari vediamo che fatturato ha fatto nel 2022, 2023, 2024, per curiosità personale. e, appunto, immettere le commissioni per rendere sostenibili i premi e dopo, ad un certo punto, paf, non è più sostenibile. Questa cosa qua non mi è andata giù. Non mi è andata giù e non è cattiveria, è una realtà che ho visto io nel gioco e che mi sono ricordato e che, purtroppo, a me non va giù. Cioè, le cose o stanno bianche o stanno nere, una delle due. Non è che puoi cambiare come vuoi tu, quando vuoi tu, sempre a tuo favore e non a favore dell'utenza. Sei d'accordo? Sì, sì, ma è giustissimo. Cioè, io proprio non concepisco questo passaggio che hanno effettuato così repentinamente in quanto Sarera ha fatto il boom, considerato come investimento. Loro l'hanno reso un gioco. Con questo aggiornamento attuale a tutti gli effetti, la gente lo considerava un investimento perché? Perché entrava, comunque, caricando dei soldi o magari le modalità gratuite finché poteva, per vincere altri soldi. Nessuno entrava per giocare e divertirsi perché le meccaniche di gioco non erano sufficienti a portare divertimento solo per giocare, come potrebbe essere un fantacalcio, ad esempio, se era da lavorare. Adesso hanno tolto la parte che si potrebbe considerare più di investimento, quindi togliendo le soglie, con l'entrata fissa, e hanno messo le divisioni che, forse, sì, lo rendono più giocabile e più divertente, ma avrebbero dovuto farlo in modo molto più, diciamo, graduale, non così repentino, anche le soglie. Semplicemente era sufficiente, come ho detto poi nel video dove trattiamo le soglie, togliere il target. Quindi lasciare quelle soglie lì, 270, 340, 390, in base ai punti che uno fa, vince. Comunque, probabilmente, potrebbero meno denaro, cioè avrebbero un esborso minore ogni game week. Eppure hanno fatto un cambio troppo, troppo repentino che non è accettabile. Giustamente molti se ne lamentano, la gente se ne tira fuori, ma al di là dell'aggiornamento in sé, che, come dicevo, io cerco di dare il bicchiere mezzo pieno, cerco di trarre le cose migliori, però anche l'affidabilità va a perdere, dopo queste cose qua. È un problema che sta alla base, al di là dell'aggiornamento in sé. La gente non si fida più, pensa negativamente sul futuro, questi fanno altri aggiornamenti del genere, sarà sempre peggio. Io spero che questo aggiornamento potrebbe essere l'ultima batosta a questo gioco, e anzi, in qualche modo, potrebbero risollevarlo, ma soprattutto che intervengano nuovamente, però, perché così è davvero grave da un giorno all'altro. Almeno questa cosa delle soglie si può risolvere, togliere il target fino ad agosto, e già posso accettarlo. Però così diventa davvero insostenibile. Un'altra cosa importante, sempre a riferimento al fatto dell'investimento, che sta diventando un gioco, praticamente, è che loro si sono disinteressati completamente delle gallerie degli utenti. Ha fatto tutti gli aggiornamenti, che nel tempo hanno portato a un crollo dei prezzi delle carte, è una discesa dei prezzi. Quindi la gente giocava, magari vinceva, però tutto il guadagno veniva mangiato dalla perdita di valore delle gallerie. Quindi molti utenti, nonostante giochino da tanto, abbiano vinto tanto, si ritrovano sotto per il valore delle loro gallerie. Sorare non ha fatto nulla per mantenere quel valore stabile, anzi, ha fatto sì che scendesse per far entrare assolutamente più nuovi utenti, e quindi, cioè, i giornamenti di Sorare non sono stati mai decisivi nel lungo termine, sono sempre stati a sfavore degli utenti, molti utenti, a maggior parte gli utenti, penso che su Sorare, quelli che comunque so che non ha tanto, siano in perdita. Questa è una cosa che fa riflettere. Secondo me, chi gioca in perdita, chi fa trading, magari può anche vincere, chi fa compravendita, tipo, può anche vincere, può anche avere un guadagno, scusate, chi fa compravendita, tipo Pavel, Series, i bot, diciamo, quelli anche sono in guadagno, però, chi gioca è veramente sfavoreggiato, ma molto, molto, molto. Una domanda, pensi che magari questo aggiornamento potranno modificarlo, oppure, magari, allungare i tempi, cioè, non in agosto, magari faranno l'anno prossimo, oppure in ottobre, siccome, ultimamente, vedevo Series, che ha messo dei dati, i prezzi stanno andando veramente giù, giorno per giorno, e oltre a questo, ho visto tanta gente che sta uscendo. Esatto. E una cosa importante, nella mia community, ho parlato con tanti, tanti hanno detto, non compro più, quindi si fermeranno al mercato e sentiranno l'abba tosta. Che ne pensi? Potranno, secondo te, magari modificare o i tempi, oppure qualcosina, nel tempo? Tra un video. Modificare i tempi? è relativo, cioè, allungare questo aggiornamento, anche alla questione delle competizioni, delle divisioni. Le divisioni sono un bene, per la comunità, danno più premi, poi che il fatto che abbiano diviso, diciamo, da competizioni regionali, a regioni, per livello, l'hanno detto, comunque, è una struttura di livello, non so bene cosa intendono, però comunque, questa suddivisione dei campionati, si ha cambiato un posto all'erro, ma non è che ha stravolto, diciamo, in negativo, quindi questa parte qua di aggiornamento può rimanere anche tale, il problema al momento sono molto alla questione delle cap, o anche il fattore classic season e new season delle carte, anche lì lo si può affrontare in qualche modo, però le cap erano il fulcro di questa piattaforma, se è steso, perlomeno andrebbe a tolto il target, è inutile estendere questo aggiornamento, prolungarlo, è difficile che rimetta una cappa normale, sicuro giocheranno perlomeno con i target o soglie diverse, la questione è lasciate le soglie senza target e prolungatelo, non fino agosto, ma un altro anno, date il tempo alla gente di gradualmente adattarsi a questo nuovo aggiornamento, tutta una questione di adattamento, perché poi possono far tutto ciò che vogliono, per dare il tempo alla gente di organizzarsi, se tu mi dici tra un anno tolgo le soglie, perché adesso l'hanno tolto di punti in bianco, se io volevo entrare non potevo più giocare le soglie, c'entravo in questo momento, perché le soglie sono solo per gli utenti che hanno giocato alla soglia vecchia, questa è una cosa molto importante, quelli che entrano non possono partecipare alla soglia a target e quindi tu devi dare il tempo alla gente di adattarsi a un nuovo aggiornamento, mi dici tra un anno, tra sei mesi io tolgo completamente le soglie, non che adesso me le modifichi e me le rendi difficilissime e poi tra sei mesi me le togli, questo non va bene, mi dici tra un anno io le tolgo, la gente ha tempo di organizzare per l'investimento, io posso tirarli fuori, io posso giocare e così via, è così che si dovrebbe fare una piattaforma normale di investimento, comunque di gioco qualsiasi cosa sia e dare tempo agli utenti di adattarsi, questa è la cosa fondamentale. Io non penso che possono fare prolungare i tempi, ho detto mi sembra la mossa migliore, è anche quasi inutile quando solo ritoccare questa questione delle soglie, penso che le soglie sono come ho detto il fulcro di Sorare e vanno tutelate, comunque vanno rispettate, forse anche degli utenti che ci giocano nel migliore dei modi, cosa che non hanno fatto, spero che dei feedback negativi possono modificare qualcosa, soprattutto neanche prolungare i tempi dove puoi ritoccare la modalità delle soglie in questo momento e togliere il target, perlomeno, sarebbe la scelta più saggia e più rapida. Spero lo faccia ma non sono positivo al riguardo. Minima dal mio punto di vista però neanche quella secondo me non è giusta perché appunto come hanno detto mettiamo le commissioni per stabilizzare il mercato. Ci sono le commissioni, resteranno le commissioni da punto in bianco non va più bene la Cap240. Allora, secondo me, dal mio punto di vista se sei una ditta seria o ti chiedi scusa pubblicamente se siamo stupidi non se la dobbiamo calcolare oppure cerchi un'altra soluzione non puoi fare una cosa del genere dal mio punto di vista. No, no, ma è giusto però la Cap2 con il 270, il 340, il 390 generalmente penso che nel lungo termine vai a vincere un po' meno però comunque se fai 340 vinci 8 se una volta fai 340 una volta superi 270 ti sei fatto 10 dollari sono due soglie normali se arrivi a 390 come è successo a me questa giornata avevo 20-25 dollari erano le soglie di un mese quindi è accettabile comunque è un compromesso che mi va bene puoi vincere un po' di meno puoi vincere un po' di più dipende dalla squadra però va bene forse è anche più divertente di arrivare ad 80 no? I punti sempre arrivare un po' di più è un gran peccato è un gran peccato poi ora ti faccio una domanda io come hai reagito tu da utente a questo aggiornamento con le sostanze le tue prime mosse sulla tua galleria le tue prime di investimento beh io ero dentro come te nella Lega Master quindi non ho potuto vendere tutto subito però ci sono rimasto male perché più che altro per vedere per vedere che non hanno rispetto per l'utenza è quello che mi dà fastidio non sto parlando di me personalmente non sto pensando a me personalmente sto pensando sto pensando alle centinaia migliaia di persone che ci sono dentro e che non hanno un minimo di rispetto per loro cioè alla fine loro è una ditta normale non c'entrano né le crypto né niente c'è solo blockchain che aiuta a far passare sti cavolo di NFT da una parte all'altra e basta è una ditta normalissima che ha un fatturato funziona come ogni ditta in generale però è una ditta che non dà rispetto al cliente all'utente a chi gli fa fare il fatturato quindi è un problema grave secondo me io non ho mai visto una ditta grossa oppure non ho mai sentito che da punto in bianco fa quello che vuole e non si interessa di quello che vuole il cliente perché questa è la strada per il fallimento sinceramente per il suicidio per il suicidio puro punto di vista personale io se avrei una ditta per quello che c'è il marketing devi portare i clienti in quella direzione a voler quello oppure devi guardare cosa vogliono da un certo punto di vista cioè una delle due non puoi fare altro non puoi fare quello che vuoi tu e pensare solo a te stesso anche se pensare a te stesso è sbagliato dirlo perché non pensano a loro stessi perché se pensassero a loro stessi avrebbero pensato anche all'utenza perché anche l'utenza fa parte di loro e questo svalutamento come dicevi tu delle nostre carte da anni che sta succedendo da anni sempre 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 di più è dato da sorire non possiamo dire che è dato dagli utenti o da qualcos'altro è dato da sorire con la concorrenza degli stand by con la concorrenza delle aste non può il gioco secondo me essere un nostro concorrente dovrebbe mettere un prezzo minimo magari che non si può vendere la carta sto provando un altro gioco e c'è non c'è la possibilità di fare offerte che mi sembra stupendo non dico nomi non faccio pubblicità non c'è la possibilità di fare offerte quindi non ti arrivano ti faccio un esempio l'altro giorno ho messo una carta rara di Uregna sul mercato ultima vendita 19 euro l'ho messa a 15 per venderla mi arrivano offerte da 7 euro e dopo mi scrivono su Discord sarei potuto arrivare a 9 ragazzi è una presa in giro le offerte non dovrebbero secondo me esisterci nel gioco non so se sei d'accordo cioè offerte di scambio di giocatori magari dello stesso livello che spera automaticamente guarda che siano circa dello stesso floor va bene non capirmi male però non offerte di denaro che è sotto sotto ogni cioè 50% del prezzo dell'ultimo dell'ultima vendita non esiste una roba del genere non dovrebbe esistere una roba del genere io le offerte non le lascerei solo scambio carte se vuoi dello stesso floor però offerte di denaro inferiori al cosa ci può stare su questa magari una piccolezza nel confronto di tutto l'aggiornamento però sì ci può stare come non ci può stare sono abbastanza indifferente però se lo togliessero magari eviterebbe un po' il mercato anzi eviterebbe fare quegli utenti che spesso ti offrono pochissimo mi tocca rifiutare a volte bloccarli questo aggiornamento mi ha un po' spiazzato io il mio modo di reagire è stato venduto un po' di galleria le carte perlomeno quelle più inutili e penso non possono trovare valore con l'aggiornamento infatti senza le cap le carte diciamo più scarse con i punteggi più bassi riescono davvero di sparire non servono più a nulla in quanto saranno solamente competizioni da premio sono rimasto per giocare a Lega Master con una squadra che era una mia squadra da cap uno stack intero una collezione che proverò a giocare a sto punto nella soglia a target fino ad agosto poi valuterò e mi è rimasta una squadra america che avevo e che a questo punto penso di tenere per giocare a sto estate perché prima di dare delle valutazioni su uscire non uscire rimanere non rimanere voglio vedere l'entità di questi premi perché saranno tanti più premi tante modalità per vincere voglio vederle con i miei occhi prima o poi di scegliere se uscire rimanere io ammetto che al momento sono positivo ho sentazioni positive spero possano mettere tanti premi con la mia squadra l'america in quest'estate ho fatto una squadra una tra le più forti possibili potrei dire giocherò quasi tutto MLS e sono il partiere brasiliano e nella Challenger quindi la Lega da maggio quando finiranno i campionati europei fino ad agosto la loro ripresa ci saranno solamente il campionato americano e quello brasiliano che giocheranno quindi questo nuovo aggiornamento diciamo che ha portato comunque delle modifiche sul gameplay quindi si possono sfruttare nuove situazioni e io con questa squadra penso di potermi trovare bene comunque avrò quasi pochissima concorrenza fino ad agosto il problema qual è che poi ad agosto entreranno i campionati europei torneranno le redivise torneranno il PSV e diventerà impossibile vincere però fino a quel momento diciamo che ci proviamo e vediamo magari se ottengo dei premi buoni poi valuterò cosa fare di conseguenza però per la stessa cosa anche campionati gli altri campionati americani asiatici quindi ad esempio il campionato argentino il campionato di quelli asiatici cinese giapponese coreano si troveranno solo tra di loro durante l'estate perché appunto i campionati estivi sono stati divisi tra challenger e contenders quindi si possono presentare delle nuove finestre io quindi giocherò fino a quest'estate fino ad agosto e poi valuto in base alle informazioni che raccolgo ai feedback che ho della piattaforma ai premi che comunque hanno detto che in sera hanno premi competizioni settimanali con premi molto alti potrebbe essere una cosa interessante quindi io sarò sicuramente dentro fino ad agosto e spero di poterci rimanere ancora a lungo prima di fare delle valutazioni però bisogna organizzarsi bene in vista dell'aggiornamento perché come dicevo per me i giocatori deboli con pochi punteggi potrebbero davvero diventare inutili bisogna andare a valutare anche il rapporto carte nuove e carte vecchie quanto ci sarà di dislivello di prezzo al momento non so quanto sia prevedibile anche lì dipende dall'entità dei premi lo vedremo solo quando questo aggiornamento sarà effettivo giusto spero il bene per tutti perché io come sai me ne uscirò mi do un mese due e vedo me ne esco perché voglio vendere non voglio svendere e vediamo quello che non riesco a vendere magari le do come al solito nelle giveaway e via sto provando altri giochini tanto per tanto per vedere se c'è altra roba buona porterò sul canale magari ne potremo anche parlare insieme differenze tra sorire non so che sarebbe bello però devo prima farmi un po' di esperienza non posso portare sul canale qualcosa di più non ne so assolutamente niente infatti un utente come te che al momento va solo squadra da cap risulta devastato da questo aggiornamento lo capisco infatti io solo perché avevo una squadra da premio per l'America che al momento rimango comunque non ho intenzione di fare altri investimenti fino ad agosto probabilmente a meno che si presentano gravi importanti possibilità occasioni rimarrei con la galleria che ho il problema è che tanti la pensano come te anche della mia community che parlavo su Discord e se non ci saranno non comprerà nessuno voglio vedere come reagirà perché alla fine dovrà avere una reazione perché si vedranno nei conti della fine del mese perché veramente devono fare anche loro fatturato e non hanno aiutato neanche loro secondo me perché tantissimi mi dicono o esco o vado avanti fino a agosto come te e guardo però non compro intanto niente quindi stoppare veramente ne non comprare è una bella botta per Soleil assolutamente infatti vedremo sono proprio curioso di vedere come andrà gli do comunque un'altra possibilità voglio dire come reagisce perché per me comunque è una piattaforma comunque di rilievo di spessore ok si possono commettere degli errori ne ho già commessi in passato ma commessi in passato finché la capa la riduce gradualmente è accettabile in quanto loro avevano fatto intuire che prima o poi se ne sarebbe andata rendendola una competizione sulla premium so rare spero neanche trattarci così quindi però dai sono sulla piattaforma da tempo voglio dare un'altra occasione a vedere come va rimango altri mesi poi valuterò successivamente e ve lo farò sapere sicuramente con inviti dai auguriamo buona fortuna a tutti speriamo in bene speriamo che magari modifichino qualcosa e vada tutto verso giusto perché è quello che spero io per tutti quelli che restano e per tutti quelli che ci hanno investito dentro di cuore proprio spero che le carte vanno su a palla magari anche se intanto magari è un po' pessimista la situazione spero vada tutto bene spero io mi sbagli ad uscire sinceramente spero veramente per voi quelli che restate dentro questo è il nostro pensiero riguardo all'aggiornamento fateci sapere nei commenti cosa ne pensate perché è molto importante che ticciate la vostra anche per noi facciamo un po' di discussione nei commenti sarebbe interessante spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi ai nostri canali e rimanete connessi per i prossimi video ciao